Troverete stavolta come titolo della rubrica 1600 volte noviscum. Questa rubrica che appunto si intitola Mane Noviscum è l'invocazione dei due discepoli di Emmaus che dicono al Signore resta con noi, resta con noi perché si fa sera. Il noviscum dice tra di noi, con noi. Quindi effettivamente sono 1600 volte che questa rubrica Mane Noviscum va in onda. Dal lontano 1991 siamo arrivati a questo sabato, a questa domenica con la 1600esima puntata. Questo semplicemente per ricordare il nostro cammino, per ringraziare quelli che ci hanno seguito, per ringraziare ovviamente Antenna 2 e con tutti gli operatori che ci hanno consentito e ci consentono questo dialogo settimanale. Il proseguo un po' è nelle mani di Dio e un po' vedremo anche noi come muoverci dentro appunto questa rubrica che comunque vorremmo anche tener cara perché sappiamo che è seguita da diverse persone in queste nostre valli e adesso addirittura con la faccenda dello streaming potremmo dire un po' chi vuole in tutto il mondo. E per questa occasione abbiamo un personaggio importante. Ho invitato a fare una conversazione tra di noi Sor Carolina. Sor Carolina che viene dall'Africa, dalla Repubblica Democratica del Congo. E qui in Italia da tempo, attualmente operava a Torre Boldone, la mia parrocchia presso la casa di riposo, nella comunità delle suore e delle poverelle. Ma vorrei lasciare a lei perché l'intento proprio di questo incontro è quello di raccogliere un po' una testimonianza che percorra un po'. Lo faremo in un secondo momento anche la sua storia, la sua vita personale, la sua vita religiosa, la prossima volta, la prossima puntata. Questa volta invece vorrei un po' inquadrare Sor Carolina dentro la storia della suo paese, diciamo, ecco il suo cammino. E vorrei proprio, direi così molto semplicemente, mentre la saluto e la ringrazio di aver accolto il nostro invito, partire proprio dal fatto che ci porti un attimo a conoscere qualche elemento di questa sua terra, la Repubblica Democratica del Congo, perché tutti ne sappiamo e poi tutti siamo un pochettino tagliati fuori, se ne parla un po' tante volte così per dire. Ecco, Sor Carolina, ci inquadri un pochettino la sua realtà di provenienza. Allora, grazie Don Leone. E' davvero che vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, che è in centro dell'Africa, che noi diciamo che ci sono tantissimi giovani, che ci sono le persone che lavorano, e ci sono le chiese e ci sono tantissime cose in Repubblica Democratica del Congo. Dunque, ci sono tante, tantissime. Non lo so, devo partire dalla chiesa, devo partire dalla chiesa che noi vediamo che la chiesa, che è veramente la parola di Dio, che è in centro, in centro nel senso che tutte le persone hanno questa parola, la parola chi è il Signore, che le persone proprio frequentano la chiesa. Non è che lasciano a parte, è la prima cosa la chiesa. In Repubblica Democratica del Congo ci sono, allora possiamo dire, 60% di cristiani e 30% è quello che possiamo dire delle altre chiese che chiamiamo la chiesa di, come possiamo dire? Conforme protestanti. Protestanti. E 10% posso dire che sono le altre, i sette così, ma la maggioranza è proprio cristiana in Congo. Partirei proprio un po' dall'origine anche, cioè il mondo familiare. Lei viene dal Congo, ecco non dobbiamo pensare in modo generico, viene da una storia familiare ed è bello anche pensare un pochettino perché questo è importante anche per persone che vengono rispetto a noi da lontano o noi se andassimo chissà dove. Qualcuno che a un certo punto ci dica ma tu, a parte la tua nazione, la storia del tuo popolo, ma la tua casa, la tua famiglia, com'è? Allora, io dirò, la mia casa con i miei genitori, diciamo vengo da una famiglia cristiana, una famiglia cristiana che i miei parenti sono sposati in chiesa e dopo abbiamo avuto la fortuna di essere in nove, nove che siamo. Ma quando dico veramente è una famiglia cristiana perché parte dalla famiglia. E nella mia famiglia i genitori la sera, così che ci raccontano le cose, cominciando con la preghiera. Vi raccontano, voi che siete qui, guarda la strada è quello di andare in chiesa, di riconoscere proprio la fede cattolica, per dire siete qui di riconoscere il Signore, andare a ringraziare il Signore in chiesa. Sono le piccole cose nella sera così e noi siamo lì con i nostri genitori a chiacchierare un po' insieme, che è bello che i parenti vi fanno pregare, i parenti raccontano le cose delle loro famiglie, dei noni, tutte queste cose. bellissimo. E l'educazione proprio, educazione diciamo comincia lì dalla famiglia. Educazione anche familiare e religiosa lì nella famiglia, che ci raccontavano proprio di tutto. Ecco la famiglia, che chiaramente fa parte poi di una realtà. Ecco noi qui nell'immaginario utilizziamo ancora la parola il villaggio. Quando pensiamo all'Africa, a parte le grandi città che sono diventate delle megalopoli addirittura e dove la vita credo sia totalmente altra. Però abbiamo un po' questa immagine del villaggio. Ecco, vuole Sor Carolina tradurci un pochettino cosa vuol dire questa vita di villaggio, che cosa comporta, se ha effettivamente, come io penso, un bel significato nella vita della vostra nazione. Allora, prima c'è la città grande che noi diciamo capitale e dopo ci sono le città, ci sono le province. Quando si parla del villaggio, noi vediamo che prima le persone che sono nel villaggio vivono in modo tranquillamente. Proprio nel villaggio si trova, c'è una chiesetta, ci sono le persone che lavorano nell'agricoltura, la terra, tutto questo, tutta la tranquillità. E lì nel villaggio ci sono la vita, le persone sono vicine, una che mangia da qua, che può andare dall'altra casa e trova lì che stanno mangiando, viene a mangiare con noi. È una vita d'insieme, è una vita quando fanno i campi, fanno i campi e cercano anche di aiutare tra di loro. È il villaggio proprio che noi vediamo che le persone parlano la stessa, diciamo non solo la lingua, perché in Congo, in Congo abbiamo la francese, in Congo ci sono tante lingue, ma ci sono anche i dialetti. Un villaggio si riconosce anche come si dice, lo stesso dialetto che parlano, lo stesso dialetto. qui parla un tal dialetto, di là si parla un altro dialetto. Attento, qui in Italia, qui a Bergamo, a Bergamo, qui parliamo bergamasco, ma se si va lì in Congo, in una provincia così, non si troverà un dialetto, si troverà più di cinque, più di venti dialetti, si troverà più di dieci, di dieci o venti villaggi, tutti che sono vicini, vicini così, che hanno un capo, che hanno anche, come si dice, il segretario di capo, che organizzano le cose nella nostra cultura, che cosa dobbiamo fare nel nostro villaggio e chi deve guidare e come possiamo andare avanti. C'è un cammino proprio nel villaggio che cercano a vivere secondo lo stile del villaggio, nella semplicità. le persone sono semplici così, che vivono senza la complicazione che noi nella città, ma in villaggio proprio, tutto è lì, voi lavorate lì, la terra è lì, ci sono le cose che fanno, è lì, e cercano di fare anche il cambio delle cose. se le persone vengono d'altrove, portano il sale e io nel mio villaggio non abbiamo il sale, io ci do mais, posso darci la verdura, posso darci, come si dice, quello che è un po' la caratteristica del villaggio stesso. Esatto, quello che noi abbiamo in villaggio che facciamo nei nostri campi è quello che facciamo un cambio, lo scambio delle cose, perché la gente della città vengono con le cose, sapone, sale, pesce, le cose da mangiare, da vestirsi, e noi nel villaggio lì si cerca di dare quello che produciamo nei nostri campi. Ecco, la domanda però che viene subito, ecco, questa realtà che può sembrare un pochettino così da favola per noi oggi e che per un certo verso era un po' anche la storia dei nostri villaggi, dei nostri paesi, non è che stia anche lì modificandosi, forse anche per una presenza ossessiva di questa pseudo cultura che arriva, penso, attraverso radio, televisione, eccetera, cioè in fondo non è che l'Occidente chiamiamolo così che ha tanti valori positivi, senz'altro in certi pseudo valori rischia di venire a rovinare anche questa realtà pure in terra d'Africa. Sì, davvero, nel passaggio, nel villaggio si trovavano tantissimi giovani, giovani che lavorano, gli anziani insieme che lavorano, ma oggi è vero che i giovani vogliono anche cercare una vita quando si vede nella televisione l'Europa è così che bello e allora cominciano, no, l'Europa cominciano già a spostarsi dal villaggio in città, dal città alla capitale per cercare anche una vita diversa da quella del villaggio perché nel villaggio non trovi la televisione ma io vado in città perché trovo la televisione, trovo anche un modo diverso di mangiare, un modo diverso di vestirmi, un modo diverso anche di parlare allora anche così oggi come oggi anche le persone cercano di andare altrove anche è una bella cosa perché anche culturalmente si può anche crescere così che loro vanno dal villaggio in città in città alla capitale è vero oggi è così ma non c'è un po' il rischio proprio come noi diciamo che si perdano alcuni valori che erano un po' la sostanza della vita familiare della vita di un villaggio della storia appunto anche di una nazione come la vostra certo certo c'è anche quello al rischio perché nel momento che si votano il villaggio ma le persone non sono più lì in grado di dire nei nostri campi facciamo questo 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 perché mancano le persone perché le persone si spostano e anche la cultura si spostando così per andare in città andare alla capitale è ovvio e si persi si perde anche la cultura perché quando vado alla capitale non è che devo seguire tutte che si faceva il villaggio ovvio il rischio è quello ecco per quanto riguarda un po' torniamo al fatto di vita di chiesa vita di comunità la realtà dei missionari stranieri e la realtà dei missionari invece missionari dei preti locali ecco come sta muovendosi nelle parrocchie ordinarie diciamo questa presenza allora questa posso dire che è una bellissima cosa tra tante belle cose in Congo i missionari che arrivano come si dice che la fede si manifesta operare no? non è che sono lì con le mani così chiude ma cercano nelle chiese è ovvio c'è catechese che si dà la parola di Dio non è solo questo cercano di dare a meno come si dice qualcosa nel luogo come un centro per l'accoglienza l'accoglienza di cosa? l'accoglienza per ascoltare la parola di Dio un centro l'ospedale per accogliere le persone malate perché oggi sinceramente noi diciamo da dove ci sono le missionarie vediamo tante opere le missioni funzionano benissimo nel confronto dell'ospedale dello Stato perché da lì c'è veramente la serietà che tu arrivi lì tu trovi che c'è l'accoglienza che ci danno le medicine che ha dato non è che aspettano che tu devi dare i soldi perché quando tu vai nelle altre posti tu vedi prima soldi e dopo la persona ma da dove ci sono questo? prima si guarda la persona subito si cura la persona e dopo il resto soldi tutte le cose vengono dopo e davvero gli missionari lavorano tanto e grazie veramente a loro che abbiamo l'ospedale fatto costruito anche in un modo bene le chiese costruite bene che la persona chi entra anche veramente si sente di pregare anche bene però adesso i missionari appunto si stanno in che modo sostituendo nelle parrocchie soprattutto la presenza dei preti locali esatto ma noi abbiamo imparato per dire che ci hanno portato proprio questo stile che anche noi che abbiamo imparato così che ci sono meno missionari ma noi che siamo lì che abbiamo imparato cominciamo anche a entrare a prendere le cose a mano a prendere la responsabilità a mano per andare avanti e così quello che abbiamo visto è quello che portiamo avanti arrivi nel missione non ci sono i missionari o ci sono due solo insieme in collaborazione portiamo avanti tutte le opere che sono lì nelle missioni ecco in Congo da quanto tempo praticamente quali sono gli istituti missionari che sono stati o sono tuttora più presenti e che stanno ancora operando o che lei ha incontrato ma ci sono tantissime partendo nella mia congregazione le sore delle povere le noi diciamo il Cisito Palazzolo già nella mia città a 1952 erano già lì nella mia città io ho conosciuto le sore perché sono arrivate lì ci sono le sore nella mia parrocchia le sore della divina providenza la providenza di Champignon le sore della carità ma ci sono tantissime gesuite che sono lì e abbiamo anche i prezi e verbizi ci sono tantissime congregazioni che sono lì allora anche quello di luogo che diciamo che ci sono ma questa presenza diciamo pure dello straniero che viene a portare il Vangelo eccetera come è diciamo visto ecco perché poi credo che ci sia anche un po' una reazione di chi è del posto vede che arriva un altro e porta magari qualcosa che finora non era conosciuto con che reazione si trova? Ma si guardiamo bene noi abbiamo accolto bene missionarie perché noi diciamo c'è la novità che si porta una chissà che c'è la novità cosa fa con l'occhio per dire l'accolgo perché sono io che divento ricco perché devo imparare qualcosa di nuovo devo imparare qualcosa che viene d'altrove qualcosa può darsi che conoscevo ma aumenta la mia ricchezza nella positività che noi accogliamo le missionarie non solo per dire che viene a portare viene a portare a me e io porto anche alla persona una novità è uno scambio proprio della ricchezza che posso dire ecco il fatto non do a chiudere questa realtà dell'Africa attuale che sta vivendo un trambusto senz'altro da un punto di vista della fede come un po' tutto il mondo poi questo fenomeno anche di queste migrazioni che sono un po' di sempre nel mondo come è stato anche nella nostra realtà europea e così via ecco diciamo che la motivazione di fondo per cui uno prende e parte dalla propria terra credo che fondamentalmente sia quella di cercare un po' una così una storia migliore dal punto di vista anche economico ma non c'è qualche volta anche il rischio di una illusione in tanti che appunto vanno in altre terre e rischiano di perdersi un po' in quello che era il loro mondo e magari di non trovare effettivamente quello che andavano cercando sì quello è vero ma in fondo quando la persona si migra va a cercare proprio qualcosa di più qualcosa che serve per la vita per almeno aprirsi anche nel mondo allora cercando così la vita migliore non è non è non è male perché una chi sta lavorando vedi che con quello che prendo non riesco neanche arrivare alla fine del mese per mangiare non arrivo neanche a fare una una casa bella allora cosa dice vado e cerco questo ovvio da dove si va ci sono due realità puoi trovare anche questa vita bella e tu trovi qualche soldino per dire non solo soldino ma è culturalmente anche qualcosa che tu impara che serve nella vita ma qualcuno anche può essere un'illusione perché arriva e dice ma che cosa sono venuta a fare perché questa immigrazione non è solo l'Africa che viene in Europa ma anche tra i paesi dell'Africa uno del Congo può andare in Angola vai in Angola lì non trova quello che voleva vai in Tanzania non trova quello che voleva dice no torno nel mio paese e faccio qualcosa e qualcuno è tornato per fare anche qualcosa di più ancora che viva anche meglio di quello che è andato per dire le due realtà non possiamo negare che ci sono ci sono una chi va per sviluppare e una chi va per sviluppare ma vede che non può torna indietro o qualcuno dice che si vergogna anche per dire no io non posso tornare indietro vado avanti e così vanno a cercare veramente questa vita che che è bella nel futuro perché quello che trova oggi quello che troverò oggi non è solo per oggi anche sarà per domani un futuro diverso ecco suor Carolina delle suore delle poverelle che viene dall'Africa dalla Repubblica Democratica del Congo qualche squarcio veloce ovviamente il tempo se ne è andato su questa realtà da cui lei proviene e se volete la prossima volta entreremo un pochettino di più invece in quella che è la vita anche personale delle scelte anche vocazionali di suor Carolina credo che siano così dei piccoli escursus che ci aiutano un pochettino a conoscere un mondo a conoscere persone un po' più da vicino e dal vivo grazie intanto suor Carolina della sua testimonianza grazie a voi come sempre che ci avete seguito e l'augurio alla mille e seicentesima puntata di Male Nobiscum l'augurio come sempre di una buona domenica grazie grazie Don Leone grazie di tutto grazie a tutti grazie a tutti